in particolare non a Kiev ma nel sud dell'Ucraina con Andrea Nicastro, inviato di guerra del Corriere della Sera. Dove ti trovi esattamente Andrea? So che hai i minuti contati perché c'è un problema di connessione come è evidente in queste circostanze. Andrea, a te. Sono a Mariupol, sul mare Dazov, praticamente nell'est della costa meridionale ucraina. Qui è dove i russi si sono sparsi dalla Crimea da una parte e dall'altra perché ormai sono arrivati a 30-40 km dalla città, da est, e hanno rosicchiato un altro po' di spazio da ovest. Ormai oggi ci sono state scene di bombardamento incredibili, fortissime, con gente smembrata, in un villaggetto che è a 7 km dal centro della città dove mi trovo io. Invece dall'altra parte a ovest la colonna di tank e di marines che sono sbarcati con i mezzi anfibi è a circa 50-60 km secondo gli ultimi avvistamenti. Qual è la tua sensazione? E da quella parte non ci sono difese. Io ho una curiosità, come dire, da persona che sta comodamente in studio e che quindi non è sul fronte come sei tu, ma primo che impressione hai rispetto dal punto di vista militare di quello che sta avvenendo? E poi ad esempio le televisioni, la televisione in Ucraina, ci sono dei messaggi? Come avviene la comunicazione tra il governo, lo Stato e i cittadini in uno scenario di guerra? Sì, c'è ancora elettricità, per cui televisioni, social network, telefonini, antenne di comunicazione funzionano tutte. Qui si usa tantissimo Telegram, si usa certamente la televisione, ma anche WhatsApp. Cioè tutto funziona e si sono attrezzati con una serie di reti per diffondere messaggi ufficiali. Quindi no, no, i messaggi arrivano, non c'è problema. Il problema dal punto di vista militare è che le uniche difese da parte di un esercito organizzato, come quello ucraino, che ha le sue truppe, i cannoni, le uniche difese sono il cemento delle case. Per cui l'esercito si deve ritirare dentro le città per potersi difendere, ma dentro le città ci sono i civili. Per cui l'esercito si deve ritirare dentro le città di un esercito. Grazie. Grazie. Grazie.